salve a tutti figli delle stelle e vi chiamo così come le stelle ci incontriamo e oggi parliamo di bibbia insieme ai problemi della vita di oggi non perdete questa questo mio video a presto ciao ciao ora vi leggo la prima frase della bibbia bereshit bara elohim et ha shamain ve et haaretz allora in principio dio creò il cielo e la terra bereshit vuol dire be una preposizione che vuol dire in quindi è meglio dire il principio invece che nel principio cioè qualcosa che deve iniziare shit se non altro bereshit l'ultima shit vuol dire fondamento bara vuol dire creò al singolare che sia creare dal nulla o no comunque vuol dire sempre creare cioè far nascere qualcosa di nuovo elaborando in modo originale elementi preesistenti quindi per me bara vuol dire creare non c'è ombre di dubbio ma poi lo si capisce dal contesto elohim è il plurale di dio e non sono gli alieni di biglino perché c'è un plurale che vuol dire come se fossero più esseri divini perché c'è la santissima trinità abbiamo detto padre figlio e spirito santo che è una pluralità però è come se fosse uno è uno in tre infatti elohim è un plurale appunto che vuol dire dio al plurale cioè la santissima trinità però il verbo al singolare bara perché è dio uno e trino e qui non ci piove è un accusativo precede il complemento oggetto ce l'hanno nella lingua ebraica mi ha fatto lezione diciamo daniele salamone che è bravissimo e io ho seguito le lezioni sua su internet hashamaim vuol dire cieli è un duale e quindi è al plurale cioè ci sono due cieli secondo me c'è il cielo quello della terra dove appunto ci stanno anche le stelle e i pianeti e poi ci sono i cieli dove stanno gli angeli quindi secondo me questi due cieli è il cielo nostro e il cielo degli angeli e poi ci sono tre cieli però quello che c'è sempre stato un cielo eterno è quello di dio dove ci sta solo la santissima trinità poi c'è il secondo cielo che è stato creato dopo appunto che si riferisce qui e poi c'è il cielo nostro che è quello dove ci sono le stelle di pianeti poi ve et haaretz haaretz è la terra allora qui però i cieli e la terra sono intesi anche come elemento chimico cosa vuol dire che creò sia i cieli cioè idrogeno ossigeno elio quindi elementi leggeri che non si vedono ma ci sono fino ad arrivare ai cieli degli angeli fino allassù oltre idrogeno oltre ecco oltre l'ultima fascia dell'esosfera e poi abbiamo elemento terra che vuol dire polvere terra da qui viene l'adamo il terrestre quindi vuol dire carbonio il numero 6 e noi siamo fatti di carbonio quindi i cieli idrogeno idrogeno ossigeno e la terra il carbonio quindi intendano questi elementi chimici dio è anche chimica ora ritornando alla frase vi dico che bare sheet cioè in principio inizia con la lettera bet che un po' assomiglia alla nostra b italiana è solo che un po' più squadrata lo sapete cosa vuol dire bet allora innanzitutto è la seconda lettera dell'alfabeto fenicio ed ebraico e è associata al numero 2 e vuol dire casa cioè coppia famiglia 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 e qui sta il grande segreto è della prima parola della bibbia in principio c'era la famiglia vi rendete conto cosa vuol dire il fondamento perché rescitte vuol dire rescitte vuol dire fondamento nel principio c'era il fondamento che è la casa e la famiglia cosa vuol dire che la famiglia quella fatta di padre di madre di bambini deve sostenere il nostro pilastro e io ho studiato anche la lingua cinese e c'è addirittura lì io vi dico lo sapete qual è la prima parola che mettano nella bibbia cinese che ora è stata benedetta da quell'altro papa giovanni paolo secondo perché cinese non è da molto che un gruppo di cinesi sono convertiti al cristianesimo e quindi hanno benedetto questa bibbia io l'ho comprata perché voglio studiare il cinesi mi piace tantissimo la prima lettera che usano nella bibbia cinese è Yen che è una lo vedete qui adesso vi faccio vedere nello schermo che è formata da il numero 2 la parte di sopra c'è due linee che rappresenta il numero 2 cinese e poi c'è quell'altro segno che è il segno di gamba che vuol dire anche persona quindi vorrei vedere in principio c'erano due persone quindi addirittura anche in cinese il principio vuol dire famiglia due persone la coppia uomo e donna e yen è anche la unità monetaria no del della cina e invece cosa vuole fare l'ordine mondiale l'ordine mondiale con la scuola di francoforte negli anni venti ha deciso di fare il contrario di quello che dice la bibbia se la bibbia dice che nel principio c'era la coppia che è il fondamento di tutta la storia di tutta l'umanità cioè l'importanza che ha l'amore di un uomo e di una donna che poi si sposano e fanno figli crescete e moltiplicatevi no? qua invece cosa succede? che l'ordine mondiale che predica la religione di lucifero la massoneria che si arriva a lucifero il gadu è lucifero eh cosa credete che sia il coniglio? è lucifero vuole con la scuola di francoforte dagli anni venti ha voluto praticamente eliminare la famiglia con il divorzio con la libera sessualità il culto all'uomo si è elevato il valore più grande e quindi se tu levi la famiglia e gli metti questi rapporti diciamo che non sono più buoni no? perché quando uno si separa poi c'è l'amante c'è la famiglia allargata e quindi non c'è più sicurezza no? le fondamenta crollano se la famiglia doveva essere le fondamenta loro l'hanno fatta crollare e quindi se crollano le fondamenta crolla perché la tutta la società perché la nostra società è fatta da la famiglia no? si basa a parte sul lavoro che non c'è ma si basa una società coniugale si basa anche sulla famiglia quindi tu gli ha a levare il lavoro tu gli ha a levare la famiglia e crolla tutto è quello che vogliano no? vogliano far crollare gli stati europei vogliano e tutto quanto quindi pensate un po' nella Bibbia la prima parola in principio c'era la famiglia cioè una cosa incredibile la Bibbia ha dei segreti bellissimi nascosti che veramente vanno scoperti via via come il tesoro tesoro bellissimo andiamo avanti poi andiamo veloci eh e la terra era desolate e informe e a me non piace dire che c'era il caos perché secondo me Dio non è mai sinonimo di caos tanti vogliano dire c'era il caos come anche nella cosmologia dei greci il famoso caos primordiale a me non piace dire che all'inizio nella terra c'era il caos a me piace più dire che all'inizio nella terra era desolata cioè non c'era niente eh cioè non c'erano non c'era il pianeta terra non c'era nulla e infatti questo tohu non mi va di dire che c'era il caos ma che era desolata e vavoku vuol dire disadorna cioè senza scopo non c'era ancora lo scopo nella terra vekoshek vuol dire le tenebre perché il sinonimo di una terra eh desolata è una terra senza la luce la luce è l'inizio del mondo no? e quindi prima c'erano le tenebre eh e vekoshek hoshek assomiglia anche alla nostra parola oscurità hoshek oscurità quindi secondo me alcune nostre parole vengono dall'ebraico e poi alpenei tehom il tehom era l'abisso primordiale cioè e qui si riprende un po' dal mito babilonese e assiro e anche sumero in cui c'era la dea namu quella dei sumeri che rappresentava il complesso delle acque salse poi la dea namu è diventata tiamat ha preso il nome tiamat che era quel mostro perché il mare cioè quest'abisso era come una grande donna oceanica no e e poi questo tiamat è diventato tehom per gli ebrei quindi gli ebrei hanno ripreso un po' dalla mitologia ma non vuol dire che sono uguali qualcosa vuol dire secondo me vuol dire che veramente all'inizio c'era una sorta di oceano ma non l'oceano fatto del mare di ora io l'ho detto anche in un altro video c'era un idrogeno secondo me primordiale una specie di idrogeno una sostanza iniziale che era un misto di aria e di acqua io la chiamo ariaque secondo me all'inizio c'era questa ariaque c'era tutto buio non c'era luce c'era questa sostanza iniziale perché il nulla assoluto dei greci i greci dicano il nulla assoluto è un po' difficile da capire il nulla assoluto secondo me c'era questo idrogeno primordiale perché l'acqua è sinonimo di eterno e anche qui ci si rifà il cinese che la parola eterno ha il carattere anche di acqua acqua con la vita quello vuol dire eterno o per sempre vuol dire quindi tutti sappiamo c'è l'acqua di vita eterna come se l'acqua cioè la sostanza l'idrogeno o un facsimele ci sia sempre stato allora Veruach qui andiamo a Biglino a Mauro Biglino il grande massone che vuole distruggere la Bibbia secondo Mauro Biglino il Veruach sarebbe l'astronave dei figli della luce sì allora c'è niente di più sbagliato allora Ruach vuol dire sia vento che spirito e si può dire la stessa cosa perché sarebbe lo spirito santo lo spirito santo è visto come un vento che si muove un vento un vento forte ma anche in cinese la parola spirito che dicano shen o shon ora scusate la pronuncia che vuol dire anche sia vento che spirito anche in cinese tipo che aria tira oggi che vento tira che aria tira che spirito hai sei triste o allegro che aria tira che tu hai un'aria oggi quindi lo si dice sia come spirito dentro come animo e sia come aria come aspetto che aria tira sei triste o allegro cioè così quindi questo veruach vuol dire sia spirito cioè spirito santo che vento e non c'entra nulla l'astronave ma da dove l'ha cioè l'ha presa l'astronave Biglino cioè ma veramente va molto di fantasia quest'uomo eh allora Elohim vuol dire lo spirito di Dio Merachefet allora Merachefet può venire dalla parola come dice Daniele Salamone che vuol dire un po' il movimento che fa l'aquila quando vola in cerca di una preda oppure può voler dire anche si scosse Merachefet come dice Danilo Valla vuol dire anche tipo una forma di energia che si scuote e poi è come un forte vibrazione e da lì da questo spirito che si muove poi nasce la luce no? perché dopo cosa dice vi sia luce Yehi Or e quindi dalla luce poi sorte fuori il mondo perché appunto io ho ripreso la lezione di Danilo Valla che è molto bravo anche questo non so se un teologo che sa molto bene l'ebraico che dice che Merachefet voleva dire queste forti vibrazioni onde di altissima frequenza che all'inizio era tutto senza forma e invisibile poi tramite queste vibrazioni viene la luce no? vi sia luce e questa luce è un'energia che diventa massa un po' come la legge di Einstein eh per esserci la massa ci vuole un'energia di luce giusto? senza luce non c'è massa quindi quel vi sia luce vuol dire l'energia primordiale luce anche di amore perché secondo me questa luce erano anche gli angeli la luce la luce di amore che l'ha data a Dio è Dio che ha dato questa luce e ha formato gli angeli tramite questa energia grandissima di luce sono sortiti fuori gli angeli infatti gli angeli sono quindi quando si dice vi sia luce secondo me c'è stata la creazione degli angeli anche dell'amore dell'eros primordiale nei greci c'è eros che non è eros ramazzotti ma è il cupido quell'angiolino bellino infatti che è il dio dell'amore che fa innamorare le persone è bellissimo la figura di cupido anche se è mitologia però a volte sembra che a volte ci sia un cupido che fa scoccare la freccia un angiolino che mette insieme due persone per cui anche nei greci si dice il mito di eros all'inizio c'era eros c'era la notte c'era che assomiglia un po' alla bibbia e anche qui all'inizio c'era la luce e qual era la luce dell'amore la luce di eros la luce degli angeli che hanno dato l'amore infatti quando si dice poi e vide che la luce era buona cioè vide che gli angeli di luce erano buoni e se però divise divise fece una divisione Dio tra la luce e l'oscurità allora questa divisione è matematica quindi la matematica l'ha inventata Dio Dio ha fatto la matematica la matematica è di Dio perché la prima divisione l'ha fatta Dio non l'hanno fatto i bambini a scuola non la professoressa non Pitagora Euclide o i greci o i sumeri hanno inventato la matematica o babilonesi no la prima divisione del mondo l'ha fatta Dio quando divise la luce dall'eterno è la prima divisione carino no perché la prima operazione matematica che ha fatto Dio la divisione è la cosa matematica più vecchia del mondo la divisione ha diviso le luce dalle tenebre che cosa vuol dire ha diviso l'amore dall'odio perché ormai la luce era cosa buona e le tenebre erano diventate cattive perché se la luce è diventata cosa buona e le tenebre è l'opposto della luce se il buono l'opposto è il male quindi ormai le tenebre erano diventate un male come opposto alla luce e chi erano erano gli angeli di luce che si erano separati e erano diventati cattivi quindi la prima divisione la prima operazione matematica di Dio è stata dividere gli angeli buoni fatti di luce di Eros dagli angeli cattivi fatti di odio quelli che non volevano seguire Dio Lucifero quindi quella luce è diventata tenebra ed è diventata cattiva come opposto al bene poi quindi divise la luce dall'oscurità cioè divise gli angeli dai demoni e ha chiamato Dio la luce giorno e le tenebre e notte gli angeli hanno creato no non loro tramite gli angeli e tramite la prima divisione luce e tenebre Dio ha creato il tempo giorno notte infatti la notte è spesso anche per i satanisti è associata al male alle streghe alle sabba satanici a queste cose qui proprio perché la notte è nata con gli angeli che si sono ribellati e poi la luce invece è abbinata al giorno cioè il giorno il mattino il buon mattino eh l'alba l'aurora dei tempi vuol dire un mondo nuovo no all'alba ecco invece la notte è sempre associata a qualcosa di demoniaco anche gli animali poverini eh poverini però i pipistrelli i guffi e tutti gli animali notturni poverini sono associati alle cose demoniache che però ehm non diciamo gli animali sono tutte creature buone di Dio anche il serpente è il simbolo degli animali eh quindi non diciamo che certi animali sono maledetti no perché anche il pipistrello sono benedetti da Dio eh anche se sono associati alle streghe però sono i simboli di questi animali che sono diventati demoniaci come il serpente è l'idolo non il serpente animale è l'idolo che ne avevano fatto quindi attenzione a dire che alcuni animali sono impuri o nel senso demoniaci perché non lo sono eh tutta la natura è peneretta da Dio questo non ci piove eh non c'è biglini o biglioni che non dicano che la natura sia benedetta da Dio ecco poi andiamo avanti vai omer elohim yehi rakia rakia allora vuol dire che disse Dio ci sia un'estensione cioè un firmamento allora che cos'è questo firmamento che separa le acque di sopra dalle acque di sotto allora le acque di sotto sono sotto il cielo sono il mare il fiume i laghi le acque di sopra sono quelle da dove viene la pioggia e poi più sopra sopra ancora c'è questo idrogeno primordiale quest'aria acque eh allora questa estensione tra le acque di sopra da qui si arriva fino agli angeli e le acque di sotto che sono i nostri mari c'era questa estensione che è sarebbe diciamo che è via è il firmamento ed è l'atmosfera che schiaccia verso l'interno con la forza di gravità l'atmosfera sappiamo che infatti è un involucro di gas che riveste il pianeta terra ed è trattenuto dalla forza di gravità su divisa in più strati chiamati sfere abbiamo sei sfere l'ultima è l'esosfera dove c'è solo elio e idrogeno eh per poi arrivare al cielo degli angeli tramite sopra l'esosfera eh si arriva anche se gli angeli scendano sulla terra non è che sono fissi nel cielo eh scendano vanno e vengono eh mi sembra di sentibiglino vanno e vengono eh gli angeli eh però non sono alieni vanno e vengono ma non sono alieni eh saranno figli della luce però non sono alieni sono angeli attenzione gli alieni non ci sono e se anche ci fossero gli alieni non possono aver creato la terra loro perché anche se ci fossero degli alieni eh sarebbero creature di Dio ci sarebbe sempre un Dio che ha creato anche gli alieni o di Nibiru o non so di quale pianeta eh che Nibiru poi era il pianeta di Sumeri mi pare no cioè ora bisognerebbe chiederglielo a Germini perché io ho letto che anche Sumeri credevano in questo pianeta che erano bravissimi babilonesi Sumeri che c'era questo pianeta si chiamava Nibiru ma può darsi che ci sia e questo erano bravi erano figli delle stelle babilonesi erano bravissimi poi loro credevano nella costellazione di Orione così e vabbè allora dunque allora crea il firmamento che separa l'acqua di sopra da quelle di sotto poi andiamo avanti raccolte le acque in un luogo e appaia l'asciutto che si dice Yabashah che secondo me assomiglia a sabbia cioè secondo me abbiamo tantissime parole che riprendono l'ebraico Yabashah sembra sabbia e infatti voleva dire l'asciutto eh e che cos'è questo asciutto tutte le terre in un luogo uno cioè sarebbe la Pangea quindi anche nella Bibbia Yabashah cioè l'asciutto tutto insieme vuol dire la Pangea cioè tutti i continenti uniti poi è venuto il diluvio e dal diluvio si è formato secondo me tutti i continenti distaccati secondo me da dopo il diluvio perché all'inizio c'era davvero la Pangea come dicano allora io direi di fermarmi qui niente poi crea gli alberi e frutto peri che sembra frutto pera vuol dire cioè peri vuol dire frutto però ci ricorda la pera cioè quindi tantissime parole le abbiamo prese dal libraico peri che vuol dire frutto quindi la parola zera vuol dire che produce seme seme zera o zaro insomma a seconda come si coniuga secondo me quindi lo zero viene dalla lettera zera appunto che vuol dire seme infatti se voi vedete il nostro zero assomiglia a un semino che poi lo zero è stato inventato infatti dagli arabi che è un popolo di lingua semitica simile agli ebrei quindi da dove abbiamo preso lo zero dalla zera o zero zaro che vuol dire seme infatti appunto lo zera ha la forma di un seme quindi noi abbiamo ripreso tantissime parole simili all'ebraico ma ce ne sono anche tanti altri poi ve lo dirò insomma allora oggi finisco qui poi adesso vi devo dire un'altra cosa e poi vi saluto